Grazie Loro invece non mai sono ventissime nelle schiere Allora, l'ho cominciato in novembre Quindi adesso cominciamo con Baccia E mi serve così da una bella stella Eseguita nel tema originale Che è il Winkle che vedete nel programma Poi vediamo il telefatto In una forma variata E poi è un po' che stanno un po' variando Io non faccio niente Per sorrita Guardare le nostre armi E non è tutto questo Guardare le nostre armi 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 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti